olio sono marcus cron e signore e signori bentornati nella sky factory 2.5 come da titolo ammetto di aver sbagliato ragazzotti io sto andando avanti o cazzo un fulminone incredibile speriamo non caschi la corrente porca puttana o mio dio presto presto facciamo un video fulmine distrugge il mio computer non è uno scherzo ma non è vero non è distrutto che sto sbagliando perché io sto andando avanti ma sto andando avanti coi cazzi che mi pare mentre un ragazzotto mi ha scritto marcus però secondo me questa non è la sky factory questa è tu che giochi a minecraft ho detto non è che mi dispiace mi dispiace però non è la sky factory e sto ragazzo c'ha ragione nella sky factory abbiamo il libretto ogni tanto devi ma sempre per ritornare lì quindi ragazzotti io doraine boy preso visione di quello che sto sbagliando farò pochissimo cioè lo farò ma non così tanto sempre per un motivo comunque vi faccio un aggiornamento di quello che ho fatto allora qui ho messo le altre cosine gli alberelli questa è un troll non vi preoccupate gli alberelli gli amp alberelli sugar cane amp water verruche cacao e tre meloni e due pumpkins di qua ho portato gli animali di qua ho rifatto la fabbrica della stone la fabbrica della stone è scesa giù in città qui ho fatto sabbia e silicone ragazzi oh mio dio è tutto pieno what the fuck aha e ho aggiunto i crafting degli impulse i resonant e non mi ricordo che altro però va bene così adesso si vede la differenza ho fatto questa torre gigante che vedete qui guardate questo nome questo nomignolo vedete che sta scendendo guardate scende e muore però praticamente qui dentro c'è in altezza la vecchia farm invece di essere larga che va là dentro qui ci sono piattaforme fanno tunc poi c'è un buco tunc giù tunc così tata tata fino ad arrivare giù i mostri non muoiono ma ne arrivano davvero tanti questo perché laggiù ragazzi non ci spostiamo laggiù non ci sarà più niente ho tolto tutto forse tutto ho tolto tutto yes questo ender chest però è mia ho tolto tutto qui lo distruggeremo ma oggi con voi voglio assolutamente ho preso questo e questo legno davvero difficile senza una scetta a scetta voglio andare a vedere come stiamo messi sul libro perché dobbiamo tornare all'origine allora posso almeno posso segnare la cosa con la tinker fatta perché se no ecco mecca tinker si si l'ho fatto l'ho fatto amato che l'ho fatto ok dovrebbe essere passata la tinker iron seed l'ho fatto diamond seed l'ho fatto avvinicio infuse d'armor ok a finicio infuse d'armor a tantissime persone mi hanno detto che con l'ultimo livello piove con l'ultimo livello di vicicius posso craftare le cose direttamente oddio un altro tuono madonna ragazzi io c'ho un attimo paura di quello che potrebbe succedere allora come si chiama infused stone oddio dov'è eccola l'extreme mi avete detto che con l'extreme scusi se faccio così no ma sta qui dentro posso prendere vediamo un po' la micio e fare così non ci credo eh infatti non lo fa non lo fa non lo fa non lo fa molti video cioè oppure no non si può fare infuse infused stone infuson son no infi come cazzo infusion infusion e master infusion cosa what the what seriamente no è infinita e gli usi e gli usi per tutti ci avete ragione ok allora questa qui mettiamola da fando item non so scrivere oggi item frame comunque è strana sta pioggia è già finita scrosciato tuono finita la pioggia mamma mia secondo me è gesù questo ok va bella la zinicio ma la zinicio era quella stupida questa è crucio no è quella potente è quella potentissima vediamo un po questa qui come si chiamava imperio sì 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 allora facciamola perché dobbiamo seguire le quest eccola qua zinicio helmet no cazzo devo fare davvero così ok quanti ne serviranno sono sempre i soliti oh shit no sì ok d'accordo mamma ho molta paura ho un paurissima no non voglio vedere questo voglio vedere questo qui perfetto bam 64 grazie a questa farm guardate quanti ne abbiamo ne abbiamo 483 certo se potessi fare quell'altra non sarebbe più un problema ma per ora e bada bim però mancano le gold nuggets con le gold le gold nuggets ah c'ho un'idea un'idea fantastica per questa cosa un'idea fantasticissima per questa cosa facciamone va bene se è stata quattro stacca della cosa finale merda è così pallosissima come sembra eh sì è pallosissima ragazzi ci metterò un po ok ragazzotti ho fatto uno stack non so perché mi hanno fatto i 63 degli altri però vabbè chi se ne frega quindi andiamo a fare prima facciamo direttamente come si chiama questa accio accio facciamo bada bim e mettiamo dentro 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 poi c'è il crucio e quindi bada bim e mettiamo dentro e che cazzo di coglioni però secondo me è forte secondo me è fortignaccola poi c'è l'imperio e bada bim oddio effettivamente c'era un iscritto che all'inizio mi aveva detto se ti fai l'armatura finale vedi quanto è op e quindi andiamo a scoprirlo insieme e finalmente c'è lo zivicios lo zivicios sul mare na 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 bravo eh no io volevo ricominciare di nuovo tutto quanto e perché ho rimesso dentro zini zivicio eccola qua du 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 signore e signori abbiamo completato un obiettivo della sky factory avere questa armatura qua è figa eh mi piace mi piace mi piace mi piace no aspetta perché sto volando no dai fa cioè no permette il volo oh mio dio permette il volo ma quanto è op ok che ci si mette tanta roba eh la nether star e tu permette il volo cazzo madonna ragazzi è il volo incredibile né più né meno madonna santissima ok craft ok fatto fly e l'ho fatto usare al gel block si plant a flower come plant a flower in five different biomes davvero ok usa damion dolly l'abbiamo fatto kill the wheel l'abbiamo fatto traveling the deep park the deep dark traveling the end ok kill the under dragon ok va bene scusa link ender punch to ender chest è vero non l'ho fatto non ho fatto un ender chest ender pano ender punch scusate tutto 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 e la mettiamo con quella base che dovrebbe essere adesso è vero se premo così non mi salta devo volare così e poi rimane molto più comodo per costruire comunque è uguale guardate la velocità a un'altra cosa che ho fatto è oddio merda un'altra cosa che ho fatto è non qui dove l'ho fatta marcus cron dove cazzo è tutto uguale acqua è stata autograffitare direttamente le essenze vedete autograffitiamo direttamente tutta sta rubetta guida scheletron bim 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 così non dobbiamo ogni volta farlo e guardate qui come siamo vesti 337 e 38 e diamantolica aumentano perché prima stavano diminuendo non ho fatti altri di seed o caghei o caghei krafta chunk loader non l'ho fatto sono una persona orribile chunk anche un po loader forse ce l'avevo no non ce l'avevo ecco qua vai mamma così sembra barare create an applied energy system to store your thing l'ho fatto scusami create a user render query lo potremmo utilizzare nel deep dark automatic storage or dust from automatic sieves no non l'ho fatto tecnicamente process sieves material no questo ce lo teniamo qui c'è age of power create a passive cooled reactor yes devo creare un attivo e quindi ci serve create a maximum size reactor a però non è 64 64 è tipo 11 produce mille cento mila ancora non ci siamo creata turbina devo fare d'accordo qui dice craft an iron wand and use mi fai iniziare la towncraft va bene va bene perché no perché no perché stavolta no obtain a primordial per che cazzo è una primordial primordial pearl the very fabric of magic since the bug at each time to pulse ma non saperei c'è la botania m'ero scordato ragazzi facciamo una cosa in questa puntata scrivetemelo nei commenti se volete vedere ogni tanto delle puntate di botania e di towncraft ok mastery age of witch un pochino di witchery age of dragon dragonic helmet mamma mia ok quindi ci dovremmo essere automatic yeah ci dovremmo essere insanity produce one billion rf non ho idea di come si faccia però va bene ci penseremo run now un k per un k ender core in the deep dark scusami ma un k per un k come faccio a mettere le fence più un k per un k non lo so turn the nether fortress into dirt with tender quarry va bene fighissimo replace power with creos ok va bene get 20 difference mu fluid a ma a proposito perché a me non sponano le mu mu come cacchio boh co a me non sponano come che cos'è questo mana mana wave call non saprei non saprei davvero perché a me non sponano ste figlie della merda fila resonant energy cell with sterling engine in tre mince aspetta mi stai chiedendo di fullare una resonant energy cell solo con gli sterling engine in tre minuti va bene lo faccio build and the farming extension with octane with automate 20 different crop va bene filo un cianco competente di tripe un cianc a 256 256 256 per 64 per 64 craft a single oc guardate questo posso dirlo di averlo fatto dov'è 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 qui guardate guardate com'è nero come il carbone bene ragazzotti e allora io vi lascio a voi queste domande ovviamente l'insanity la facciamo per forza di cosa la dracoric evolution la facciamo per forza di cosa fatemi sapere se nella sky factory per perseguire il nostro scopo ovviamente oltre alle puntate in cui comunque farò delle cose che voglio fare io e comunque seguirò il libro per le cose tecniche se vi interessa vedere guarda quanto inc vedere anche un po di witchery un po di towncraft e un po di botta in culo io sono il vostro ammeghi appola grazie per avermi consigliato questa armatura e grazie per avermi ricordato qual è lo spirito della serie non fare la mia solita serie tecnica ma fare la sky factory bella per voi la prossima puntata facciamo esplodere quel mostro là mua mua bella rega